Hanno racimolato solo pochi spiccioli, del resto è impossibile non chiedersi cosa si aspettassero di trovare i banditi che hanno preso di mira nella notte tra giovedì e venerdì l'asilo Santa Maria Bertilla e le sale parrocchiali di Fiera. Un magro bottino al quale va sommata una lunghissima scia di danni, i malviventi dopo aver scavalcato una recinzione sul retro hanno scassinato una porta antipanico. Passata al setaccio anche la sala audiovisivi, locali della scuola per parrucchieri, la Caritas e gli spogliatoi. Insomma un lavoro che ha richiesto decine di minuti o più verosimilmente qualche ora. Chi invece non ha avuto i minuti ma solo pochi secondi per agire sono stati i banditi che hanno preso di mira il negozio di occhiali che si trova in piazza a Venegazzù. Per il marchio Lio è il quinto furto nel giro di pochi anni. Qui i banditi sono entrati scassinando una finestra sul retro. Una volta all'interno è scattato l'antifurto al nebbiogeno ma loro nel frattempo hanno svaliggiato due espositori portando con sé oltre 100 paia di occhiali per un bottino che non è ancora stato quantificato ma che potrebbe superare i 100.000 euro. Nella marca trevigiana intanto, proprio in queste ore, arrivano i rinforzi per i carabinieri. Le squadre operative del quarto battaglione di Mestre affiancheranno gli uomini del comando provinciale di Treviso per controllare il territorio nel corso del mese di marzo. Le squadre opereranno soprattutto in città in gruppi di almeno tre militari. Grazie a tutti.